Appuntamento con le ricette, un prodotto di stagione, il marrone di Mongardino, le colline bolognesi e a raccontarci questo piatto veramente interessante è Omar Orsi, Rio Maggiore la fattoria ed è anche uno chef professionista proprio dei cuochi bolognesi. Allora, velocemente gli ingredienti e come prepararlo? Allora, oltre ovviamente ai marroni di Mongardino c'è le patate, c'è la zucca e c'è la farina di castagne per legare un po' all'impatto, uova e farina per tenere insieme. Un bel tortino di patate con la salsa di castagne scottate al timo. È un antipasto secondo me molto sfizioso che si può servire intero o come assaggino. La zucca come accompagnamento, la preparazione di queste castagne col timo? Vengono prima sbollentate con, vengono lasciate a bagno tutta la notte, vengono sbollentate con l'acqua aromatizzata sempre al timo, una volta che sono cotte si tira fuori con un goccio d'olio d'oliva e un po' di timo si saltano in padella. L'acqua che vengono a creare crea quel po' di salsina da poter sciogliere la patata che tende a legare un po' in bocca. Possiamo dare qualche dose rispetto agli ingredienti che sono stati usati per una bella tavola delle feste di 4-6 persone? 4-6 persone, ci vuole circa 300 grammi di patate e 150 grammi di castagne, più o meno, dipende anche da quanto sono grandi. Diciamo qualcosa come 50-60 grammi di farina di castagne e appena appena il profumo della zucca, anche del sapore della zucca stessa. Serve un po' per dare colore ma anche per tornare al sapore. Grazie mille, questo è un assaggio, naturalmente il nostro appuntamento con Omar Orsi. Continua.